Dio misericordioso ha distrutto il suo peniamino piuttosto che la mediocrità offuscasse una sola particella della sua gloria è stato lui a uccidere Mozart e ha lasciato me qua giù per torturarmi 32 anni di torture 32 costretto ad assistere al mio disfacimento la mia musica diventava via via più spiatita nessuno l'ha più suonata mentre la sua buongiorno professore è ora di andare all'accesso oggi lo sai che quando avremo per colazione colpito catamellato e va matto lei eh parlerò per lei quasi intercedo per tutti i mediocri del mondo io ne sono il campione quasi come il simononcino mediocri di tutto il mondo io mi assorgo io mi assorgo io mi assorgo ciao 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 Grazie a tutti.